Era il 23 gennaio 2010, quando, a seguito del crollo della loro casa, morirono le sorelline Marianna e Chiarapia Bellavia. Con oggi sono passati nove anni da quella tragedia avvenuta in Via del Carmine, nel pieno centro storico della città di Favara. Un giorno, il 23 gennaio, che non si può dimenticare. Riaffiorano alla nostra mente ancora quei momenti, quei suoni, quelle sirene percorrere il tratto di strada, ma anche le grida e lo stato d'animo dei soccorritori. Sono passati nove anni. Diverse cose sono cambiate nel nostro centro storico. Da allora molte case sono state riqualificate e ristrutturate, a fare da apripista sicuramente la scia Farm Cultural Park. Potremmo raccontare nove anni di storia, delle vertenze giudiziarie nate e continuate, ultima in ordine di tempo, la recente richiesta di condanna per il proprietario dell'immobile dell'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale, della consegna di una nuova casa per la famiglia Bellavia, del dissequestro dell'aria, di cosa si è fatto e di cosa ancora purtroppo non si è fatto. Ma questo piccolo e sentito omaggio vuole semplicemente ricordare le due piccole vittime che, con tanti sogni nel cassetto, hanno dovuto incolpevolmente lasciare questa vita terrena senza vederli purtroppo realizzati.